Sappiamo quanto Boko Haram sia violenta, sappiamo come abbia martirizzato la Nigeria, ma cosa vogliono questi gruppi terroristici? Cosa vogliono? L'hanno detto chiaramente, cioè che vogliono una società islamica dove la sharia, il loro modo di capirlo, viene imposto a tutti e perciò hanno creato un califato. E questo califato è soltanto l'inizio del califato islamico che dovrebbe coprire tutto il territorio nigeriano, come fanno pure quelli di l'ISIS. Questo è il loro scopo. E se tu dili che, senta, questo non è possibile, per loro no, niente è impossibile perché è la volontà di Allah. L'hanno messo in testa che questa è la volontà di Dio e sarà possibile, anche se moriamo nel corso della battaglia. Se moriamo andiamo direttamente in cielo, ma la vittoria è certa. Questa è la loro testa. Perciò diciamo che è un'ideologia religiosa pericolosissima. Ma qualcosa adesso si sta muovendo anche a livello di mondo islamico, di paesi, di realtà, di alto livello dell'islam, governanti. Io dico problema islamico perché solo i musulmani possono dirgli che dicono bugie, che dicono sciocchezza. Solo i musulmani possono dirgli. Io non posso dirgli quello. Solo i musulmani, particolarmente i musulmani rispettati come esperti di teologia e legge islamica, per dirgli di smettere di dare un nome cattivo all'islam. E come dicevo, hanno già cominciato. Se riusciranno non so, ma si tratta di almeno un aspetto molto importante per vincere il terrorismo. Ci sono altri fattori, naturalmente. C'è il fattore militare, c'è il fattore economico, c'è il fattore politico che non si può trascurare. C'è un problema ideologico anche, però formidabile. Sì, sì. È quello che forse chiamo politico, ideologico, teologico. È la stessa ideologia che troviamo dovunque vediamo questi estremisti violenti. Per noi cristiani di oggi sembra strano che qualcuno possa, a nome di Dio, uccidere persone innocenti. Perché ormai abbiamo un modo di pensare differente. Ma come sappiamo, nella storia dell'umanità abbiamo avuto tante, tante terribili cose fatte in nome di Dio. Lei comunque ha detto, non solo i cristiani sono perseguitati, tutti sono vittime della violenza e questo è dire la verità al mondo. Per quanto riguarda i cristiani, dal punto di vista del Boko Haram, i cristiani non dovrebbero esserci. E allora ucciderli è normale. Si può dire, non si tratta neanche di semplicemente persecuzione. È il tentativo di esterminarli. E questo è loro, e questo va in linea con loro, la loro ideologia. Ma sappiamo pure che per loro, soltanto loro hanno un'idea corretta dell'Islam. Vuol dire, ogni musulmano che non è d'accordo con loro, ogni musulmano che gli dice di essere sbagliati, diventano anche un besaglio. E' così che uccidono i mammi, distruggono tutti i villaggi e siccome il governo nigeriano è contro di loro, tutti i personali del governo sono anche nemici. Così che uccidono poliziotti, soldati, agenti di Dogana, tutto questo uccidono. Le ragazze che hanno rapito a Cibok, la maggioranza sono cristiane, perché la città di Cibok è una città prevenientemente musulmana, a me cristiana, ma c'erano anche delle ragazze musulmane fra di loro. Dopo i fatti di Parigi, l'Europa ha paura. Che cosa può dire lei a questa nostra Europa che si confronta con il terrorismo di matrice islamica, così direttamente? Vuol dire che tutto il mondo adesso deve mettersi d'accordo a affrontare questo problema come un problema mondiale. Il re di Giordano ieri ci parlava esattamente nello stesso modo, che non si può più affrontare il terrorismo in piccole località, perché l'ideologia è mondiale. Vuol dire allora che anche quelli che combattono il terrorismo devono anche trovare un modo più globale di farlo. Mi spiego, quando gli americani vanno in Afghanistan per combattere il terrorismo, e lo vedono come che stiamo difendendo gli americani, o come gli inglesi dicono, dobbiamo andare in Afghanistan a combattere, perché se non li combattiamo in Afghanistan, loro dovremmo combattere in Inghilterra. Secondo me è un modo di vedere le cose che è molto miopico. Vuol dire, se gli inglesi non sono in pericolo, non importa allora, è tutto il mondo che dobbiamo vedere insieme.